Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tiposo Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori La Fiorentina chiude alla grande prima della sosta nazionale Bomber Marco Benassi, capocannoniere contro il Riti Ha trascinato la squadra alla vittoria contro l'Udinese Splendido gol al volo dopo un assist sontuoso di Federico Chiesa Nel duello tra le squadre più giovani della Serie A L'ha spuntata dunque la Viola a punteggio pieno dopo le prime due gare Per l'Udinese invece continua il tabù franchi Ultimo successo nel lontano 2007 Ad assistere alla gara anche il Cittimancini Che a fine match ha così parlato Bernardeschi ha più esperienza di Chiesa Ma credo che potranno essere importanti per la nazionale Ora e in futuro Hanno margini di crescita impressionanti La gioia di Federico Chiesa prosegue anche dopo il novantesimo Duccia Veloce e via verso Coverciano Insieme a lui anche Biraghi e Benassi Sono molto felici ha detto Federico La nazionale regala emozioni importanti Ed è sempre bello quando arriva una convocazione Per Fiorentina1.com Gianmarco Fusi